Ciao internet, se mai siete chiesti quante persone su Facebook controllano quello che scrivete, quanti sono le persone effettivamente che sono in grado di controllare quello che voi segnalate e che soprattutto devono gestire la mole di tutte le segnalazioni, beh, adesso lo sappiamo. In questo momento sono 4500 le persone assunte da Facebook per controllare le segnalazioni, non solo, ma sappiamo anche, l'ha detto Zuckerberg in questi giorni, che altre 3000 verranno assunte per controllare le trasmissioni live, perché, beh, probabilmente dopo il paio di brutte esperienze che la piattaforma ha avuto ultimamente, l'omicidio di Cleveland e l'omicidio in diretta, il secondo omicidio in diretta di qualche giorno fa nel sud-est asiatico di un bambino. Altre 3000, il che porterà i moderatori di Facebook a 7500 unità. E quindi la prossima volta che vi chiedete come fanno a rispondere alle vostre segnalazioni, e vi ricordo di fare segnalazioni se trovate qualcosa che non dovrebbe essere sulla piattaforma, adesso lo sapete, un totale di 7500 persone. E come sempre, grazie mille per avermi ascoltato e... e sto preparati.